Ciao a tutti, ecco per voi un altro video di I consigli di Cecilia e come sempre vi lascio 5 consigli questo mese ho deciso di incentrare questi consigli nel campo capelli consiglio numero 1, per dare più volume ai capelli sposta la riga dall'altra parte e vedrai un sacco di volume in più numero 2, adesso che si spera arriveranno le belle giornate coprite i vostri capelli perché il sole li potrà davvero danneggiare e visto che vanno così tanto di moda i capelli sfoggiatene uno stupendo e proteggete i vostri capelli dal sole numero 3, metti il cappello come ho detto prima però appena lo levi i capelli sono tutti schiacciatissimi come fare? prendi il borotalco o un talco, comunque è normalissimo lo metti sulle radici, scuoti bene poi prendi una spazzola, possibilmente di legno e lo vai a distribuire bene su tutti i capelli vedrai un sacco di volume numero 4, se vuoi che la sua piega rimanga intatta però non vuoi abbondare di lacca perché non ti piace l'effetto spruzza la lacca direttamente sul pettine o sulla spazzola i capelli si fisseranno ma senza creare quell'effetto di capelli attaccati numero 5, ultimo consiglio utilizza sempre una spazzola di legno invece che quella di plastica perché va a distribuire naturalmente gli oli e il sebo che si trova proprio alla radice e lo va a distribuire bene anche sulle punte e in più la spazzola di legno passata sulla cute per spazzolare i capelli fa proprio un massaggio bellissimo io spero che come sempre questi consigli vi siano stati utili e ci vediamo il prossimo mese con lo stesso video un bacio, ciao!